Ok, per la camera il colpo Ok, il shooter, sei pronto? Prima Stiamo! Prima Finito, se si è chiaro, si è chiaro, si è chiaro, si è chiaro, la triggere Sei pronto? Prima Ok Ok, finito, allo da in sottotitolo Ok, finito, allo da in sottotitolo Standby Stando Stando продata Ok, vedele Shooter, sei pronto? E' pronto Stando Stai no ready ready sono pronti? pronti 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 scambio o... ti finisci? pronti stand by ti finisci? ok pronti 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 pronti